Buona domenica a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Questo videocorso è dedicato e pensato per i più piccoli. Dunque invito ad una particolare attenzione le amiche e gli amici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, i docenti di sostegno ed anche i reattacchi tra noi a figli e figlie in età grosso modo dai 2 ai 10 anni. Vi faccio vedere un bellissimo pacchetto di giochi didattici a base di software libero. Allora cito letteralmente, si chiama Gcompris per cui sito di riferimento gcompris.net. Questa è un'applicazione quindi va installata sul computer ed è multipiattaforma cioè lo possiamo usare dappertutto ma se vedete qui direttamente nel sito ufficiale in realtà è possibile scaricare anche la app per android, per ipad eccetera eccetera. Allora Gcompris gioca in realtà, nasce in Francia, sul Gcompris. Ho capito. Proprio perché ha una forte finalità didattica da subito, colorato, con effetti sonori, stimola l'apprendimento e guardiamolo insieme. Allora lo si scarica vi dicevo da questo sito, sito di riferimento, gcompris.net sito ufficiale e poi clic su download anche se in realtà il tasto download lo troviamo in bella vista anche direttamente nella home page del sito. A destra abbiamo la possibilità di scegliere varie lingue. La cosa bella è che il gioco può essere calibrato proprio già nativamente cioè all'origine su tante lingue anche diverse dall'italiano. Proviamolo subito. L'ultima versione è la 0.97 ed ora è versione totalmente completa per cui abbiamo veramente oltre 100 attività che ci aspettano. Allora io guardate, riduco ad icona immediatamente il sito, l'icona di Gcompris o Gcompris è molto carina, colorata in arancione. C'è questo cubo che la mostra. Effetto sonoro che ci dice benvenuti, io lo trasferisco a voi. Guardate, tasti grandi, le categorie qui in alto. Abbiamo esercizi sull'alfabeto, sui numeri, per imparare l'informatica. Guardate, clicco un secondo qua sul gattino con la tastiera. Parole e informatica in diverse categorie. Guardate che bello. Allora, completa rompicapo, clicca. Proviamo questo. Trascina e rilascia gli elementi per farli corrispondere. Allora, vediamo un attimino. Io con il mio mouse tengo premuto, lo porto qui e l'ho abbinato bene. Poi con il mio mouse tengo premuto, lo porto qui e l'ho abbinato bene. Poi vediamo, prendo questo, un oggetto di uso comune, lo trascino qui. Sposto un attimo il mio faccione. Allora, manca ancora questo, per cui vediamo un po' dove la mettiamo questa torta. Io la metterei qui. Perfetto. Ed ancora, questo lo metterei qui e poi ci resta il nostro arancio, lo vado a spostare qui. Ok. Trascina e rilascia gli elementi per farli corrispondere. Ok. Clicca. Premiati. Bellissimo, semplice. Questo ad esempio per l'infanzia o per farlo con i genitori accanto ai bambini. Se clicco poi sul pulsante casa, torno all'indice. Abbiamo veramente tante possibilità. Sposta il mouse, clic. Vediamo un attimo. Allora, sposta il mouse cosa intende qui? Che imparando a muovermi con il tasto sinistro del mouse, vedete cosa sto facendo? Sto componendo completamente la foto e quando ho terminato vengo gratificato dal completamento. clicca ancora sulla casa. Abbiamo veramente tante attività didattiche. Vediamo un pochettino. Cambiamo completamente categoria. ABC questa volta. Lettere semplici. Clic. Allora, vediamo un attimino come ci comportiamo. Qui c'è la E e la vado a digitare. Digito la A, digito la U. Ecco, questo per i piccini aiuta moltissimo perché le lettere scendono piano piano. Io le digito e in più sento anche la corretta pronuncia. Clic sulla casa. O anche naturalmente giochi poi più complessi. Intendiamoci bene. Posso prendere ulteriori categorie. In questo caso l'un, due, tre. Numerazione aritmetica. Unità di misure. Per cui, insomma, a voi veramente la prova pratica come sempre. Vi mostro ancora che cliccando sulla chiave inglese è possibile decidere cosa fare in merito agli effetti audio, gli effetti sonori, se voglio una tastiera virtuale e quant'altro. Vediamo anche sotto che c'è il filtro di difficoltà da poter, diciamo, cliccare. Cioè, io posso graduare anche in questo caso magari il grado di difficoltà dei miei esercizi. Chiudo con X. E poi, non appena abbiamo terminato di utilizzare il nostro j'ai compris, clicchiamo sul grande tasto rosso di spegnimento e a questo punto usciamo appunto da j'ai compris. Per cui, che dire se non provatelo, la tecnologia e l'apprendimento vanno non solo molto d'accordo, ma possono rendere il tutto divertente ed agile. Ecco la didattica digitale che mi piace e che ho il piacere di condividere con voi. Ancora buona domenica, un saluto e buon divertimento con j'ai compris. Ci rivediamo qui sul canale YouTube Trainer Andrea con il prossimo videocorso.